buongiorno benvenuti appuntamento con i 90 secondi di pistocchi tre partite in programma in questo fine settimana che saranno a mio modo di vedere decisive per il prosieguo del campionato la prima è quella che vede la juventus in grande difficoltà dopo la partita contro il celsi affrontare l'atalanta proprio l'avversario che più di tutte le italiane assomiglia alla squadra inglese allenata da tuccher lo stesso modulo 3 4 2 1 la stessa organizzazione la stessa intensità di gioco questa partita ci dirà a che punto è la juve di allegri dopo quattro mesi dall'inizio del campionato la mia sensazione è che allegri ancora non abbia potuto o voluto dare un'identità precisa a questa squadra procede per esperimenti senza per la verità trovare la soluzione giusta eppure questa squadra sembra costruita apposta per giocare col 4 3 3 o col 4 2 3 1 vedremo cosa succederà perché questa partita potrebbe dire molte cose sul futuro di allegri stesso le altre due partite vedono impegnate le capoliste il milan affronta il sassuolo in una partita casalinga che tutto sommato si annuncia una partita facile per i rossoneri che hanno fatto una grande prestazione anche sul campo dell'atletico madrid mentre il napoli affronta la lazio in un gustoso faccia a faccia tra spalletti e sari due amici ma anche due rivali partita importantissima soprattutto per capire a che punto era lazio di sari ma anche cosa sarà e cosa farà il napoli di allegri senza giocatori molto importanti come osime alla prossima Grazie 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 Grazie